Dietro l'intenso lavoro del Crotone c'è Manuele Cacicia, allenatore in seconda e spalla di Davide Nicola. Glasse 1978 è tra i più giovani vice della Serie A e per il secondo anno seguirà il Crotone nella massima serie. Ecco come sta preparando il gruppo per la nuova stagione. Anche quest'anno abbiamo ricominciato a lavorare con un gruppo di ragazzi volenterosi e volgiosi di imparare i nostri metodi di lavoro. In questo primo periodo abbiamo cercato di insegnare ai nuovi arrivati quelli che sono i nostri principi di gioco e soprattutto le nostre metodologie di allenamento. E allo stesso tempo abbiamo rinfrescato un attimino ai vecchi giocatori quelli che erano i lavori che abbiamo svolto lo scorso anno. Abbiamo iniziato la stagione con mille difficoltà e sicuramente con un gruppo di ragazzi che come noi si approcciava alla categoria quindi aveva tutto da apprendere. Piano piano attraverso il lavoro, attraverso la dedizione settimanale su quelli che erano gli obiettivi che dovevamo raggiungere siamo riusciti a far raggiungere sia ai giocatori ma anche a noi un grado di maturazione importante che poi è culminato con un'impresa storica che è stata la salvezza. Ricominciamo con l'umiltà di chi ancora deve fare tanta strada per poter dimostrare in questa categoria. Maria Chiara Sigillò per la CNews24